Nel video precedente abbiamo cercato di dare un'idea generale della dialettica hegeliana e per questo ci siamo serviti di un brano tratto dalla prefazione alla fenomenologia dello spirito in cui Hegel illustra il processo, il movimento dialettico attraverso il bel esempio del boccio del fiore e del frutto. Adesso cercheremo di dire qualcosa sul primo capitolo di questa opera pubblicata nel 1807 e cioè sul capitolo dedicato alla certezza sensibile. Allora prima di tutto è da dire che Hegel stesso considera la sua opera come una specie di romanzo in particolare gli dice che la fenomenologia è la storia romanzata della coscienza. Qui ci sarebbe da soffermarsi su queste parole ma insomma diremo che nel pensiero di Hegel lo spirito umano, la coscienza, diciamo così per giungere alla piena consapevolezza di sé quello che è quello che Hegel chiama il sapere assoluto deve percorrere una serie di tappe tappe che egli appunto intende descrivere in questa opera fondamentale. La fenomenologia dunque si divide in una serie di sezioni coscienza, autocoscienza e ragione la ragione a sua volta si divide in tante altre sottosezioni ma questo non ci interessa per il momento per il momento ci interessa di entrare un po' nei particolari del primo capitolo il capitolo appunto dedicato alla certezza sensibile chiediamoci allora che cos'è la certezza sensibile che dà il titolo al primo capitolo della fenomenologia dello spirito che cosa intende Hegel con questa espressione certezza sensibile e gli dice che il contenuto concreto della certezza sensibile le appare come il contenuto più ricco ma che cosa significa? che cosa è il contenuto concreto della certezza sensibile? possiamo dire ciò che appare immediatamente al nostro sguardo ciò che noi abbiamo davanti quando apriamo gli occhi è il mondo così come immediatamente lo vediamo io aggiungerei che la certezza sensibile è una certezza da prima muta che non parla, che non si pronuncia su ciò che vede ma che si limita ad accogliere quello che vede nel momento in cui la certezza sensibile enuncerà, dirà quello che vede ecco questo dire rivelerà la verità della certezza sensibile che non è quello che la certezza sensibile pensava o opinava dice Hegel ma è invece addirittura il contrario quindi essa sarà costretta ad abbandonare questa opinione di possedere in qualche modo nella immediatezza della visione la conoscenza più ricca e dovrà nel dire appunto nel enunciare quello che vede quello che ha davanti agli occhi dovrà ammettere e si renderà conto che in realtà la conoscenza che essa possiede la verità dice Hegel la verità è tutta altra cosa da quella certezza che essa semplicemente opinava che essa semplicemente credeva cerchiamo di concentrarci un po' su questo punto immaginiamo quindi da una parte un atteggiamento semplicemente come dire passivo di fronte al mondo cioè la coscienza della certezza sensibile si limita a guardare il mondo si limita in un certo senso ad accogliere attraverso gli organi di senso ciò che si presenta a lei immediatamente qui ed ora questa coscienza dunque è certa della presenza immediata degli oggetti davanti a lei è certa del mondo che vede è certa delle impressioni che riceve è certa che queste diciamo così impressioni sono costituiscono una conoscenza una conoscenza di infinita ricchezza ma nel momento in cui la coscienza della certezza sensibile deve dire deve enunciare questo suo contenuto concreto questo suo contenuto sensibile che essa vede ciò che essa vede ciò che essa sente ciò che essa tocca nel momento in cui essa deve in qualche modo render conto attraverso il discorso attraverso il dire di questa sua certezza allora lei non fa altro che enunciare il puro essere di ciò che è davanti a lei cioè la coscienza della certezza sensibile in questa prima fase non è in grado di articolare il discorso ma è in grado soltanto di dire ecco questo è esso dunque ciò che è davanti a me ciò che si presenta alla mia visione semplicemente è ma voi capite che questa prima affermazione costituisce dice Hegel la verità più astratta e più povera se io voglio render conto di quella ricchezza di contenuto che si presentava da prima da prima il mio sguardo ciò che io vedo nella ricchezza nella molteplicità di tutti i particolari se io voglio render conto della singolarità che immediatamente io vedo davanti a me e nel render conto attraverso il dire di questa singolarità non so dire altro che questo è ciò che io vedo è evidentemente questa frase non dà conto della ricchezza del contenuto sensibile che io ho davanti a me che come tale per Hegel è ineffabile non si può dire non può essere detto perché il linguaggio il potere divino del linguaggio dice Hegel è proprio quello di universalizzare i suoi contenuti il linguaggio diciamo così è tale per cui il suo sapere è sempre un sapere concettuale cioè è sempre un sapere universale non è un sapere del singolo di questo singolo oggetto che è davanti a me ma nel momento in cui io cerco di dire questo singolo oggetto che è davanti a me per esempio nel momento in cui io cerco di dire qui davanti a me c'è questo albero bene questa stessa frase questo stesso discorso che io dico questo che è davanti a me è un albero non è diciamo così non rende conto della singolarità dell'albero perché questa stessa frase la posso applicare a qualsiasi altro albero che entri diciamo così nel raggio della mia esperienza dunque ecco qui la coscienza della certezza sensibile fa questa prima istruttiva esperienza che ciò che essa credeva la sua opinione di avere quindi di possedere la conoscenza più ricca nel momento in cui essa deve enunciare l'oggetto che ha davanti a sé e si limita a dire questo è si limita a enunciarne dunque il puro essere che è appunto una verità ma è una verità ancora immediata è una verità che non ha in sé alcuna differenza e quindi dice Hegel è la verità più astratta e più povera quindi ripeto abbiamo qui appunto un rovesciamento della situazione noi stessi vediamo che la coscienza della certezza sensibile intende una cosa e poi ne dice un'altra cioè intende il singolare ma poi dice l'universale si tratta adesso di vedere il movimento che porterà la certezza sensibile a rendersi conto da sé che la credenza che essa aveva all'inizio è una credenza tutto sommato illusoria è un'opinione che essa dovrà abbandonare per acquistare diciamo così un punto di vista più elevato lungo il cammino lungo il cammino che porterà poi la coscienza alla piena consapevolezza di sé che porterà poi la coscienza come dice Hegel a conquistare il sapere assoluto ma questo lo vedremo nel prossimo video nel prossimo video noi cercheremo di spiegare questo movimento dialettico che è interno alla coscienza della certezza sensibile e che appunto le farà comprendere che la la verità della certezza sensibile non è quella che essa opinava cioè il famoso contenuto concreto di una conoscenza che è immediatamente presente davanti a me un oggetto che è un oggetto singolare ma è tutto al contrario è una verità astratta è un universale che è esattamente il contrario di quello che la coscienza credeva di possedere nella visione immediata del mondo davanti a lei qui ed ora è un universale